Una macchina confrotevole, comoda per le signore, ma anche una macchina sportiva, un cambio che risponde molto rapidamente alle sollecitazioni e alle richieste, una sentita di strada che sono da 4x4, tutti gli effetti, tenuta di strada è sempre eccellente, facciamo del misto e vedete che non si scompone, non fa una piega, piace? Questa è Subaru Outback, una macchina che è andata a percorrere oltre che per andare a passeggio.